benvenuti amici benvenuti in questo nuovo video oggi da questa bellissima postazione iniziamo così direttamente da ottobiano dove siamo venuti a provare la nostra pit la prima volta per me in questo circuito non ci sono mai venuto abbiamo già fatto un turno molto divertente molto impegnativo però l'importante che sia divertente e riusciamo a divertirci adesso pausa e ci riusciamo un attimo tra una quarantina di minuti rientriamo adesso stava girando un kart tra poco gireranno i super motard e niente sono gasato eccitato non vedo l'ora di rientrare veramente una cosa bellissima dopo essere allenati 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 a pista di alessandria venire qui che la faccio vedere per qualcosa di bello venire qui che la possiamo considerare una una vera pista è qualcosa di di fantastico scusate ma mi trema la mano perché comincia a essere anche un po' stanco ecco qua che partono i motard fantastico bellissimo contentissimo veniteci ragazzi è bellissimo è una bellezza potrei dirlo una volta bellissimo ma sono gasatissimi dai svere i won't forget this why do i regret this in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up i'm breathless anxiety's infectious i feel so defenseless betrayed and embarrassed i hate being open i hate being broken i feel like a notion filled up with emotion anger ain't a potion rub it on like lotion i can feel it soaking reopen the scars have awoken i can't move on till i go i feel so lost never at home me too adesso che entriamo la cosa importante importante di tutto è quella di riuscire a capire le marce traiettorie e i punti di staccata c'è bisogno di forza di andare forte subito e sbagliare tutto a capire come guidare la moto che è importante perché comunque 160 tira abbastanza i rapporti secondo me non sono quelli giusti abbiamo cambiato un piccolo abbiamo messo un dente in più ciao giusti qui I slip off the field and crash on the steel I am you I can't move on till I let go My face won't fall I can't move on till I let go 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 Ok, abbiamo finito anche questo turno Facciamo la diretta da dentro il furgone Perché fuori fa un caldo bestiale Bene, ed è tutto sommato è andata molto bene Abbiamo abbassato il giro Siamo andati sotto l'1.10 che per me è già tanto È la prima volta che vengo qui Non è facile, è bene, dai siamo contenti Ora cerchiamo di migliorare questo best Abbiamo due o tre volte rischiato con l'anteriore E va bene, dai tutto sommato Molto contento di questo tempo qui Ci stiamo divertendo un sacco Adesso i ragazzi sono andati a mangiare Io da buon, da buon atleta Mi sono convinto delle balli Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this fame Cause I came to the game And I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed All the squad here to play And I've got something to say I hear him say 6am and I'm up again I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the a.m. that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I move this track of time, yeah Move fast and climb A new class to find, yeah That true passion shines And I'm cool passing time I choose stacking dimes You snooze half the time While I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push bars, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn the parts into follow straight Soух I get lost too much ARGYron All And When You 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La fretta di dover tornare a casa che era già tardi, non c'è stata la possibilità di prenderci 5 minuti per fare il video di chiusura e quindi lo facciamo in viaggio mentre stiamo tornando a casa. Purtroppo sentirete l'audio così perché sfortunatamente mi si è rotto il microfono dell'iPhone e quindi niente. Quindi niente, adesso c'è il microfono esterno che usavo per della Rode, si è rotto l'attacco e quindi niente, adesso uso il microfono del telefonino. E niente, è stata una bellissima esperienza, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo migliorato il nostro best, alla fine abbiamo, l'ultimo turno abbiamo girato in 1.09.1 che per la prima volta devo dire che tutto sommato è andata molto bene, sono molto contento. Adesso non vedo l'ora di riorganizzare, di tornare a Ottobiano ma soprattutto di visitare anche nuove piste come Sette Laghi, Busca e ce ne sono un sacco qua vicino che si possono andare a provare. Mi auguro che questo video qua ti sia piaciuto, se lo sei ancora iscritto mi raccomando iscriviti al canale e niente, per questo video qua è tutto, io ti saluto e ti ringrazio, al prossimo video. Grazie a tutti.